Per affrontare il problema dei difficili rapporti sindacali, si è riunito in Prefettura il tavolo di conciliazione richiesto dalle rappresentanze sindacali ATAP. Al termine delle trattative è stato raggiunto un accordo tra i vertici dell'ATAP e le rappresentanze sindacali. È stato formalizzato un codice di comportamento e dichiarato cessato lo stato di agitazione. Solo garantendo a tutti, sin dalle scuole primarie, facoltà di accesso a moderni strumenti didattici, è possibile creare una società civile capace di confrontarsi con le sfide del futuro. Ha dichiarato Luigi Squillario, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Erogati fondi per la formazione che spazia dalla cultura all'arte. Sostiene inoltre il progetto di bilinguismo LIS, Lingua Italiana dei Segni, diventato punto di riferimento in materia. Oltre 60.000 euro alla Croce Blu di Modena e 27.000 per ricostruire la scuola materna di San Felice sul Panaro, distrutta dal terremoto dell'Emilia. Sono i fondi raccolti dal gruppo Banca Sella attraverso due conti correnti aperti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, messi a disposizione dell'Associazione di Volontariato e della Scuola. Sempre in Prefettura, riunione del Consiglio Territoriale dell'Immigrazione, per l'espressione del parere sui progetti presentati a valere sul Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013. 4. I progetti esaminati. Obiettivi dei progetti, favorire l'accesso degli immigrati e i servizi per la famiglia, agevolare l'accesso alla casa, promuovere il dialogo interculturale e la formazione linguistica, con particolare attenzione alla formazione pre-partenza nella terra di origine per gli albanesi. Chi è felice non è cattivo. Ascolto e pazienza e educazione alla cortesia, a scuola come a casa. Cortesia intesa non solo come buone maniere, ma come comprensione di bisogni altrui e attitudine alla collaborazione. E' quanto emerso dal convegno sul bullismo Bulli e Bulletti, promosso dall'Associazione di Genitori Insieme e di Più, rivolto a educatori e famiglie. Al convegno, svoltosi all'auditorium di Città Studi di Biella, hanno partecipato il tenente dei carabinieri Michela Giuglardo, il criminologo Marco Bertoluzzo e la neuropsichiatra infantile dell'AS di Biella, Patrizia Bagnasco. E da Biella è tutto. Grazie.